Cari amici, bentrovati! Oggi ho fra le mani una fisarmonica Borsini. Borsini è una ditta di Castelfilardo. Questa fisarmonica è la 41120, modello SL4117M. È colore bianco, celluloide perlata, molto luminosa, una fisarmonica molto bella. Ha, cosa molto importante, l'amplificazione sia dalla parte della tastiera che dalla parte dei bassi, quindi l'amplificazione completa. Troviamo 11 registri dalla parte del canto. La fisarmonica è in quarta e quinta con il Musette, che lo troviamo in questa posizione qua. Le misure della tastiera sono di 49 cm, esternamente 52 cm, ha una profondità di 19 cm e un'altezza di 42 cm. 120 bassi, come vi ho detto prima, 7 registri con il master centrale. La fisarmonica pesa 10 kg e 700 grammi. Nella parte posteriore troviamo un cuscino molto morbido, ha la chiusura del mantici in cuoio e velluto e il manale. Sempre cuoio con il marchio borsini e velluto interno. Sentiamo il suono di questa fisarmonica partendo dal master che si può inserire sia dal registro in mezzo qua, oppure dalla parte della tastiera. Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sentiamo i registri dei bassi, partendo dal superiore. Scendiamo. Scendiamo. Troviamo la quarto maggiore, la quarto minore, settima dominante, settima diminuita e la fila dei contrabbasi.